Stanchi dei soliti regali? Grazie, sì, un profumo da bagno è quello che ho sempre sognato. Pure il prezzo ci hai lasciato. Siete ancora alla ricerca di un regalo possibilmente utile? Grazie, ma i garzini con i bassotti mi servivano proprio. E allora io ho la soluzione che fa per voi. Quest'anno a Natale regala il mio libro. Scusa amore, hai ragione tu. Scusa amore, hai ragione tu non è un libro di fantascienza. È la prima raccolta completa per farsi dare ragione dalla vostra dolce metà. Infatti con Scusa amore, hai ragione tu avrete una raccolta di consigli utili e di strategie per affrontare la vita di coppia e vincere. In questo libro infatti c'è tutto quello che ho imparato in questi sette anni con mia moglie e tutti i modi conosciuti e inediti per farvi dare finalmente ragione. Ho capito, molto lo leggo. Scusa amore, hai ragione tu edito da Momo Daduri. Abbiamo? Libro che ho scritto io. Tu hai scritto un libro? Beh perché posso scrivere un libro, tutti scrivono i libri e ho scritto un libro pure io. Ma di che parla? È una raccolta con tutti i modi per avere ragione. Da chi? Da te. Posso leggere? Che caccia è? Non avevi detto il... E c'è tutto quello che ho raccorto in sette anni. Non è vuoto? Eh? È vuoto! Appunto! Tu ora scrivi tutti i modi per essere babba. Voglio vendere libri! Proprio una raccolta di libri! Buon Natale!